buongiorno a tutti dal vostro grande capitano napoli benvenuti in questo nuovo video sempre forza napoli soprattutto nella cattiva sorte meno due al napoli inter valevole per la venticinquesima giornata di serie a che si giocherà il nostro grande tempio del calcio diego al romando maradona stedio sabato appunto dopo domanda alle ore 18 sfida tesissima in lotta scudetto veramente molto emozionante hanno venduto tutti i biglietti disponibili la capienza è solo il 50 per cento e venduti tutti i 27 mila 27 mila biglietti sfida veramente molto importante molto attesa che se dovesse andare come noi speriamo che vada questa importantissima partita ci potremo trovare la venticinquesima giornata con già due terzi del campionato già passato in testa del campionato in attesa di quando verrà recuperata la partita in meno che avrà l'inter bologna che niente a scontato che a bologna vincerà di sicuro e oggi torneranno se non sono già tornate della tarda serata di ieri sia anguissà e sia colì dalla coppa d'africa mi sento di dire che almeno verranno convocati per napolo inter c'è il ritorno anche di a un as probabilmente parlo della lista dei convocati perché ancora presto per dire la probabile formazione la farò nella giornata di domani dopo l'allenamento di oggi e l'allenamento di domani c'è da dire che forse gli unici due disponibili dovrebbero essere Lozano e Tuanzèbe e secondo me nella testa di Spalletti ci potrebbe essere di non rinunciare a Guangezus e di non rinunciare neanche a Colibali che è appena rientrato e non escluderei per avere una difesa più fisica né il quattro dietro di difesa invece che fare come potrebbe essere preventivabile a destra di Lorenzo i due difensori centrali con il ritorno di Colibali e Drakman e a sinistra mettere Marrui avere più fisicità e sostituire Guangezus con Marrui appunto perché comunque Marrui diciamo ha più fisicità scusatemi Guangezus ha più fisicità scusatemi di Marrui per sbaglio avevo detto il contrario scusatemi Guangezus ha più fisicità di Marrui sicuramente è sicuramente forse un po' meno diciamo offensivo ma più difensivo ma secondo me con un 4-3-3-4-2-3-1 come mia opinione personale anch'io opterei per farle giocare dal primo minuto sulla sinistra nei 4 dietro sulla fascia sinistra difensiva anch'io opterei per farle giocare il Marrui ma giustamente fidiamoci di Spalletti e staremo a vedere e ne sono certo che sicuramente farà la scelta migliore quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata e la crescita l'attesa l'ansia sale sempre di più per Napoli Inter che appunto sarà dopo domani alle 18 nel nostro tempo del calcio il Diego Armando Maradona ansia 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 questa grandissima sfida sfida scudetto si sta avvicinando sempre di più un buon proseguimento di giornata dal vostro grande capitano Napoli ciao a io un buon proseguimento di giornata dal vostro grande capitano